Il giorno in cui ho piantato questo cartello, ero convinto di aver giocato bene le mie carte. Credevo che nessuno avrebbe più potuto distruggere questa parte di foresta. C'è una regla, c'è una legge che bisogna applicarla, quindi se il fiscale è ordinario e non l'applicarono fino a oggi, a chi devo chiedere che applici la legge? Io non discuto della legalità di tua riserva, io discuto se entrano in tua riserva o no. Il problema è che chi arriva prima a prendere la posizione della terra ce l'ha, come il farlo, legalmente così oggi, con la differenza che c'è una decisione politica. Cosa vogliamo fare? 5.000 ettari ancora di bosco buttato giù per mettere 5.000 vacche o vogliamo abbattere una riserva? 5.000 vacche 9.000 milioni di abitanti. La fauna deve essere dato. Abbiamo di produrre, 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 produrre più o meno costi. Favero Pelotto, viste? Sta pelato. Jota, vale la pena proteggere 5.000 hectare. Vale la pena, Daniela. Vale la pena. Voi? ... ... Grazie a tutti.